ragazzi sono un po' preoccupato sono roberto malerba mi è arrivata oggi questa lettera qua di fare la mammografia io non so come fare io ho un grande problema come posso fare io una mammografia visto che sono un uomo per fortuna e non c'ho le tette questa è l'italia mammografia 80 euro adesso con lo sconto 40 euro questa è l'italia mammografia per gli uomini se qualcuno ancora ha dei dubbi si può fare la mammografia si può fare io credevo che facevano solo le donne invece no anche gli uomini la possono fare questa è la prova guardate qua centro sanitario valcuvia malerba roberto mammografia 40 euro di sconto questa è l'italia io spero che non mi venga un complesso perché le tette ancora non sono cresciute speriamo che non mi crescono perché ci tengo a essere come sono ma sarà